Oggi è il 23 aprile, anche noi come quasi tutti i negozi della città abbiamo esposto la fotografia che ci è stata consegnata dall'associazione commercianti di Pietro Florelli. Ha uno strano effetto, vedere tutte le vetrine del viale con il viso pensieroso di Pietro, una città che si stringe veramente con grande commuzione a questo dolore. E' veramente impressionante, fa una tenerezza, tutti i negozi della città, quasi tutti, hanno esposto la vetrina alla foto di Pietro. Questo è il corso piano. 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 Questo è il corso piano.